Dino Giarrusso, poi torno anche dalla dottoressa perché escludo che la dottoressa voglia montare un caso politico, però poi ci arriviamo fra un secondo. Io credo che le cose stiano esattamente al contrario di come ha appena detto Senaldi. Tu all'inizio, Mirta, introducendo la questione Lombardia, hai detto non voglio fare un processo al governatore della regione Lombardia. Per carità, non bisogna fare processi, neanche meno in televisione. Però dobbiamo invece dire la verità e informare i cittadini. La regione Lombardia è la regione che ha affrontato peggio il Covid. Il presidente della regione Lombardia, Fontana, è lo stesso che ha fatto avere alla ditta della sorella, della moglie del cognato, degli appalti su dei camici facendo un grande pasticcio, poi dicendo che era una donazione. Poi quando Report li ha beccati ha detto no, era una donazione, poi lui ha dato 250 mila euro a quella azienda del cognato facendo un casino assoluto. Ma se l'avesse fatto una cosa del genere, qualcuno, se questa cosa l'avesse fatta qualcuno del Movimento 5 Stelle... Io tentavo di parlare del problema dei cittadini, però stamattina ci provavo. Però io ho sentito parlare questi avvocati difensori, perché quello sarebbe il direttore di un giornale, e invece ha fatto l'avvocato difensore del signor Fontana. Se mi dai la possibilità di parlare senza essere interrotto come ho fatto io, io non parlo. No, scusami, 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 dovete stare a me, ragazzi, dobbiamo seguire un po' d'ordine. Ora finisce, scusami Pietro, ora finisce già Russo, poi ti farò replicare, poi farò replicare Morelli, perché ho bisogno che ognuno di voi parli nel suo spazio, se no diventa un pollaio e non mi piace. Lo stile di questi signori è questo qui, quando io li faccio parlare con molta correttezza, allora appena uno inizia a parlare e dice la verità, ti parlano sopra, perché la verità fa molto male. Gianrusso, finisca e poi Senaldi ribatterà, perché lei ha fatto un'accusa a Senaldi, l'ha chiamato avvocato difensore, quindi Senaldi deve ribattere. L'intervento di Senaldi, chiara, cara Mirta, non ha parlato di nulla, ha difeso, cosa che per carità è nelle sue assolute facoltà, ha difeso la regione Lombardia. La regione Lombardia, che si è ricoperta di ridicolo durante la gestione Covid, con anche un gravissimo caso di speculazione, sul quale faranno luce i magistrati, ma i fatti sono molto evidenti e molto gravi, perché non esiste al mondo che si utilizzi un'emergenza Covid per favorire una ditta di un parente, e questo è successo in Lombardia. Se poi è un reato o no, questo lo diranno i magistrati. Il fatto mi pare chiaro, mi pare evidente, e i colleghi direi che lo hanno scoperto, ma è evidente che oggi c'è il problema vaccini. Quella dottoressa che stava per strada prima, che avete intervistato, non ha alcuna intenzione di fare una querel politica, non credo che sia un'attivista politica di nessuna forza politica, ma è una dottoressa che vorrebbe che i cittadini della regione Lombardia avessero la possibilità di curarsi meglio, e non la hanno, e ci ha spiegato che sono andate male delle gare, che sono andate deserte delle gare, che sono stati dei bandi di gara evidentemente sbagliati. La cosa incredibile è che in una televisione, in un, non il tuo programma per carità, ma in un contesto televisivo, dove se a Virginia Raggi si gratta il naso, si fanno i processi, a Virginia Raggi, quando è la Lombardia a toppare, perché sta toppando su tutta la linea, succede un casino, quelli signori si abbiano, perché la dottoressa Giochi, perché la dottoressa...